buongiorno a tutti buongiorno a tutti 11 1101 abbastanza precisi dai ci concedete questo minutino di ritardo ma ci sta stavamo facendo le ultime cose tecniche benvenuti a tutti benvenuti a tutti allora giusto le prime due informazioni quelle di base tecniche chiedo alla regia di mutare per il momento tutti tutti gli utenti giusto per motivi tecnici diciamo così facciamo per una prima introduzione andiamo a vedere tutte le cose parlo un pochino io poi do subito la voce però a Helmut Koker poi riprendo io mostriamo due slide facciamo insomma questo breve percorso vi abbiamo promesso che la chiudiamo in circa 45 minuti e cerchiamo di stare lì ma se ci sono domande ci sono due strumenti fondamentali uno li potete scrivere le potete scrivere in chat in qualsiasi momento oppure diciamo finita la presentazione possiamo aprire i microfoni così potete anche farla tranquillamente la domanda anche perché non vi annoierò in questo caso con in questa in questa oretta meno in questi 45 minuti con statistiche numeri sì due graficini li vediamo ma proprio un cappello introduttivo poi quello che vogliamo fare andare proprio a raccontare quello che faremo a fine novembre quello che andremo a fare a stoccolma e perché abbiamo deciso come tender vino e come the wine hunter quindi merano wine festival di andare a creare questo questo evento questa opportunità questa bellissima manifestazione che si svolge a stoccolma dove io sono già stato l'anno scorso ma quest'anno lo facciamo con una grossa novità che adesso vi raccontiamo io direi che intanto partiamo avete visto che l'evento è registrato quindi chi poi si collega magari nel nei prossimi minuti potrà vedere l'inizio nella registrazione ma chi sono parto presentando mio sono alessandro sati ho creato tendervino diciamo qualche anno fa per coadiuvare le aziende italiane nei mercati con monopolio sappiamo benissimo che i mercati con monopolio sono diciamo particolari non voglio dire difficili anche se un po' lo sono però hanno delle logiche tutte loro hanno dei meccanismi tutti loro quindi canada e scandinavia di questi parliamo anche se sarebbe più corretto dire le province del canada perché ogni provincia ha un una propria agenzia delle proprie regole ma allo stesso modo quando parliamo di scandinavia parliamo di svezia norvegia e finlandia nota di colore i monopoli della scandinavia sono cinque non sono tre però islanda e isole faroe sono nettamente meno importanti in termini di volume in termini di tutto quindi in genere ci concentriamo su questi tre oggi però parliamo solo di uno di questi parliamo di svezia dicevo con tender vino il ruolo che abbiamo è quello di coadiuvare le aziende sia nella candidatura ai tender perché non entriamo nel dettaglio non è l'argomento oggi quello dei tender ma quando le agenzie statali emettano un tender le aziende che producono vini adatti alle ricerche in corso possono candidare i propri vini come farlo vi aiutiamo noi ma non ci sono solo i tender ci sono altri modi per entrare e lavorare in questi mercati uno di quelli e è quello di cui parliamo oggi è quello del lavorare nel mercato dell'oreca quindi andare a toccare la ristorazione l'hotelleria eccetera la svezia un mercato da questo punto di vista fantastico poi vediamo qualche informazione maggiore in dettaglio ma la grande novità di quest'anno è che il mio ruolo di ambassador per il merano wine festival mi ha permesso di creare questa partecipazione insieme a elmuth cocker quindi insieme proprio a the wine hunter quindi andare a portare in svezia l'eccellenza della produzione italiana do per scontato che stiamo parlando di vino ma in realtà stiamo parlando anche di alcolici quindi questa partecipazione è aperta anche a produttori di amari grappe liquori di qualsiasi tipo elmuth io ti darei la parola perché ascoltarti è sempre un'illuminazione direi è sempre un reminder all'eccellenza ogni volta che ti sento parlare mi finisci il tuo intervento in cui dico cavolo mi piace questa cosa devo andare avanti e quindi ti do la parola se introduci quello che quello che abbiamo pensato di fare allora grazie alessandro buongiorno a tutti da parte mia e un po forse do un anticipo importante che è dall'anno scorso che ho nominato diversi wine hunter ambassadors per cercare di avere una rappresentanza un po in tutti i paesi del mondo che sia dall'america che sia in cina che sia in giappone ovviamente anche nella parte europea e qui collaborare con dei personaggi come praticamente alessandro che sono ben inseriti sul mercato e quindi hanno chiaramente una preparazione professionale una conoscenza dei vari mercati e poi cercare ovviamente di piazzare quello che rappresenta il wine hunter io dal 1992 che organizzo il merano wine festival e la base di questo è la selezione soprattutto dei vini e anche qui quest'anno sono stati assaggiati e valutati più di 7500 campioni di vino con 10 commissioni e ovviamente qui cerco di valorizzare poi questi premi che noi diamo con il wine hunter award tramite i wine hunter ambassadors il mercato svedese come i mercati ovviamente del monopolio li ritengo anche molto importanti per le aziende italiane soprattutto mercato svedese dove abbiamo visto una crescita di importazione di vino abbiamo visto anche il vino italiano che è cresciuto soprattutto la parte biologica la parte di sostenibilità questa è una parte che anche all'interno del wine festival cerco di dare sempre di più referenza anche sulla parte di autoctoni ecco dove diciamo l'approccio del wine hunter award e quindi dei vini che sono stati assaggiati e valutati dalle commissioni del wine hunter possono essere un'importante referenza su questi mercati e la cosa ovviamente che è importante quando iniziamo a parlare di vino dobbiamo parlare anche di qualità in questo contesto chiaramente wine hunter è una referenza importante che non solo a livello nazionale ma a livello internazionale e questo è un po' la nostra volontà tramite wine hunter ambassadors nello specifico Alessandro Satin per il mercato svedese integrarci in eventi importanti del territorio dove sappiamo che l'interlocutore e quindi l'operatore quindi la persona anche giusta per le aziende i distributori e quindi avere una valenza avere una validità dell'evento stesso oppure realizzando degli eventi veri e propri anche in autonomia però la cosa importante è quella che poi le aziende abbiano un feedback qui chiaramente il mio la mia garanzia divento testimonia per quanto riguarda la qualità dei vini e Alessandro per quanto riguarda tutta la parte organizzativa ecco per cui ringrazio Alessandro io ripasserei la parola a eh Alessandro ringrazio a tutti voi che siete presenti e ripeto eh abbiamo scelto anche un periodo subito dopo eh Merano Wine Festival per cui si inserisce anche bene in questo contesto e lì Alessandro adesso vi darà un po' tutte le spiegazioni i dettagli di quello che succederà in questo contesto grazie Alessandro passo la parola a te grazie a te Helmut sì il periodo quello di novembre è un periodo appunto che chi opera chi è nel circuito del Merano conosce benissimo direi in questo caso noi però siamo a fine novembre per cui post Merano e questo ci dà anche la possibilità durante il Wine Festival di aumentare la comunicazione eccetera io andrei in condivisione di schermo dovrei essere abilitato e come da buona prassi quando abbiamo fatto le prove non funzionava ma eh è giusto che sia così quindi andiamo a vedere oh forse stavolta ha funzionato immediatamente vediamo dovrebbe essere tutto a posto quindi partiamo subito con la prima slide e vi dicevo che il eh il affronteremo scusate ecco era partito male infatti eh affronteremo solo pochissime informazioni da un punto di vista eh tecniche di funzionamento del mercato ma sono informazioni importanti perché la prima cosa che andiamo a vedere è questa ovvero il vino importato in Svezia negli ultimi undici anni questo è un dato a valore e eh cito che la fonte eh ho preso queste informazioni dai numeri del vino quindi sono aggiornati a forse un mese fa quindi sono eh piuttosto recenti vede una crescita costante con una media del 3-4% annuo almeno da undici anni quindi sono diciamo dieci anni stiamo tranquilli sono dieci anni che il mondo del vino importato in Svezia cresce e cresce a valore io qua non ho messo il eh il volume ma il volume al contrario del valore più o meno non è cresciuto più o meno è stabile questo vuol dire che cresce cioè rimangono eh sta rimane stabile il numero di bottiglie aumenta il numero del valore significa banalmente che si importa a prezzi mediamente più alti ma se andiamo a fare ancora un uno spaccato di questi dati vediamo che quello che è importante in questo caso è vedere come è cresciuta la eh forse c'ho qualcosa eccolo qua perfetto scusate forse avevo una cosa che copriva parte delle delle slide comunque dicevo andiamo a fare uno spaccato e vediamo che eh la Francia rimane prima eh non è sempre stata prima ma ormai è qualche anno che è prima a valore ma l'Italia ha un ottimo secondo posto potremmo andare a vedere che la Francia è cresciuta 2022 verso 2021 mentre l'Italia ha avuto una leggerissima battuta dal resto ma comunque vediamo che eh i numeri sono decisamente interessanti non ho messo i numeri delle altre degli altri stati ma eh parlavamo anche prima c'è una parte importante perché Spagna ok nessuno si stupisce usa tutto insommato ci sta vedete però l'altra è Denmark prima anche mentre ne parlavamo tra noi eh è emerso questo fatto come mai Denmark quindi la Danimarca è così importante il motivo è molto semplice perché tra la Danimarca e la Svezia c'è un canale preferenziale per cui quel vino che dalla Danimarca va in Svezia direi tutto o insomma se non tutto la gran parte di quel vino non è vino danese quindi è un vino di di rimbalzo che viene mandato ad esempio dall'Italia ma non solo dall'Italia in Danimarca per poi andare in Svezia quindi quello che dicevamo prima un più quattro per cento 2022 su 2021 e questo già ci dà una bella idea anche se o meglio ancora di più se consideriamo che la corona svedese nell'ultimo anno si è svalutata molto quindi se noi facessimo questo conto in corona svedesi vedremo addirittura un più nove per cento e soprattutto un più quarantadue ma qua più che il più quarantadue mi piace sottolineare il fatto che è costante la crescita 2012 dal 2012 ad oggi diciamo gli ultimi dati disponibili ripeto è importante il più 2022 ovviamente ma è ancora più importante il fatto che sia una crescita estremamente costante c'è poi un altro dato importantissima importantissimo che è questo ovvero che l'Italia è leader direi assoluta direi incontrastata nel mondo del bio con un più quarantadue per cento e questi dati li ho presi scusate ma mi arrivano le notifiche che vedete anche voi al video che ho preso dalla European Food Agency dove l'Italia è leader e con il quarantadue per cento a valore e a volume del mondo del bio e questa è un'informazione per noi estremamente importante perché sappiamo bene cosa l'Italia fa nel mondo del bio sappiamo bene cosa il mondo del biologico rappresenti ed il trend anche se ormai parlare di biologico di trend quando si parla di biologico ha poco senso però questo era solo una prima velocissima introduzione il fine di oggi non è parlare del mercato svedese di raccontarvi nel dettaglio il mercato svedese ripeto ma è ovvio che quando parliamo di Svezia tutti noi hanno abbiamo in mente questa parola systembola get a cui si somma l'oreca e poi tutti gli altri canali quindi quello che siamo andati ad analizzare è stato uno spaccato allora systembola get rappresenta la fetta grossa della torta vi faccio vedere immediatamente quanto grande è la torta è la fetta di systembola get o systembola get lo pronuncio ogni tanto all'italiana perdonate perché rappresenta un 83 circa rotondo i numeri un 83 per cento dei dei vini venduti qua parliamo di vino non ho indicato questa informazione ma parliamo di vino l'ottantatré per cento dei vini venduti in Svezia viene venduto attraverso systembola get c'è però quasi un 10 per cento che è fatto dall'oreca quindi noi dice alema siete matti a concentrarvi sulla fetta piccola della torta beh intanto un mercato da 700 quanti sono 778 milioni di euro la fetta piccola sono comunque 78 milioni di euro di vino importato in Svezia conti fatti così a mente ma insomma l'ordine di grandezza ci siamo inoltre chi di voi ha provato a fare i tendere noi questa cosa la sappiamo benissimo per quanto puoi essere bravo per quanto il tuo vino possa essere il migliore del mondo diciamo che non è semplicissimo entrare in systembola get è possibile farlo ovviamente e anzi è gran parte del nostro lavoro ma non è così semplice farlo quindi quello che andiamo a fare concentrarci proprio sul mercato della ristorazione in cui il monopolio diciamo che possiamo banalizzare dicendo che il monopolio non c'entra quindi l'importatore vede e assaggia il nostro vino il nostro prodotto decide che gli piace lo acquiste lo vende ai propri ristoranti e propri clienti della ristorazione lo semplificata lo asciutta estremamente ma insomma quindi in breve cosa abbiamo creato noi di tender vino insieme a the wine hunter abbiamo creato una partecipazione all'evento della giornata del vino italiano appunto a stoccolma che si sviluppa in due giornate ovvero la prima giornata è quella del 27 novembre è un lunedì ed è la giornata in cui la camera di commercio italiana in svezia organizza proprio l'evento quindi una giornata dedicata ad aziende non presenti sul mercato svedese quindi i visitatori di questa giornata sono importatori principalmente ci sono ristoratori ci sono wine lover ci sono giornalisti come a qualsiasi evento ma non è un evento rivolto al consumatore finale è un evento risposto per rivolto al trade che si tratti di ristoratori non so quanti di voi sanno che molti ristoratori in in svezia hanno la licenza di importazione magari sono piccoli importano solo per loro stessi o per i loro due tre ristoranti per cui sono per noi comunque clienti interessanti in l'altro caso è quello degli importatori che comprano da noi e poi rivendono alla ristorazione ma questo è quello che succede praticamente in qualsiasi paese del mondo quasi quindi è una cosa abbastanza conosciuta per chi ha un minimo di conoscenza dei mercati esteri insomma se la giornata del vino italiano organizzata alla camera di commercio si conclude il 27 di novembre noi abbiamo pensato di aggiungerci una seconda giornata che è quella del 28 di novembre in cui ci fermiamo sul territorio in cui chi e noi di tender vino rimaniamo a stoccolma per andare ad incontrare gli importatori o con i quali abbiamo già avuto appuntamento dai giorni precedenti o i più interessanti tra quelli proprio conosciuti il 26 è un'esperienza che faccio spesso che ho fatto anche l'anno scorso ma che faccio spesso quando vado a fare una fiera perché capita spesso in fiera di trovare un importatore interessato ed interessante ma sul momento abbiamo mille cose abbiamo mille visitatori non riusciamo a dedicargli il tempo necessario in questo qui grazie a questo chiamiamolo scamotaggio ma insomma segreto e pulcinella lo fanno in tantissimi colleghi questa cosa io quando trovo qualcuno di interessato ed interessante dico senti se sei a stoccolma non mi chiedere di andare a malmo o a bergen il giorno dopo magari beh forse ho citato una città norvegese comunque se sei in zona domani mi dai un'ora vengo nel tuo ufficio e approfondiamo l'argomento questo ci permette dalla prima chiacchierata in fiera di entrare già nella prima parte della trattativa e questo abbiamo visto essere estremamente importante in base ai voli ad esempio l'anno scorso mi sono fermato avevo il volo il mercoledì sera per cui c'è stata anche in realtà la terza giornata in cui ho fatto le stessi abbiamo fatto gli stessi incontri con gli importatori allora quest'anno ed è una delle grandi novità dato la data la collaborazione non portiamo sulle singole aziende o ci presentiamo con come passatemi il termine dei produttori uniti ma ci presentiamo nello stile del merano wine festival quindi andremo a fare anche l'allestimento del nostro spazio dei nostri tavoli con lo stile merano wine festival e questo avremo su delle guide avremo su dei dei materiali perché vogliamo presentarci come eccellenza e come gruppo quindi una cantina presente nel nostro stand se anche il marchio della cantina non è conosciuto in svezia beneficia della notorietà e del prestigio che il merano wine festival porta questa cosa vado veloce l'ho già detta parliamo di vino ma ci mettiamo anche i cuori in questo caso abbiamo deciso di non concentrarci sui prodotti food perché non essendo coperto da monopolio il viaggia per strade diverse in questo caso ci concentriamo proprio su vini e licori e quello che abbiamo detto prima andando su come merano wine festival con sotto il cappello di wine hunter accettiamo l'adesione ad aziende che abbiano almeno un prodotto premiato e questo per noi fa la differenza significa che un'azienda può portare anche prodotti che non hanno ricevuto il premio questo è chiaro però vogliamo portare su aziende del circuito quindi riconosciute come aziende di eccellenza proprio da da elmut e dal suo staff ovviamente una nota che mi viene chiesta spesso è ma ok io vengo su domanda che mi fa il produttore in questo caso questo format non prevede la presenza del produttore nel senso che l'azienda viene rappresentata proprio da noi da tender vino proprio perché magari portiamo su un numero x di aziende ma abbiamo un unico spazio diciamo che è una collettiva in cui le aziende sono rappresentate da noi nel pacchetto chi magari ha già ricevuto la proposta di adesione eccetera si è accorto che il c'è un'ora incluso nella nella fila adesione c'è un'ora di formazione in cui come dire ci conoscerete e noi vi facciamo un po' di formazione ovviamente possiamo poi andare a decidere insieme quali vini portare su eccetera c'è una deadline per l'adesione abbiamo stabilito il 30 di settembre ovviamente salvo esaurimento posti per cui c'è di fatto un mese da oggi oggi è il 30 ma tanto lo so che siete tutti in attesa di sapere di conoscere l'ultima linea che è quella dei costi e vi dico che il costo per chi si iscrive entro il 15 di settembre è di 1500 euro parliamo di una cifra dai vare perché la fatturazione verrà fatta da noi quindi l'italia su italia sono 1500 euro più iva ad azienda per per l'adesione è un pacchetto all inclusive o meglio l'unica cosa che rimane fuori questo è specificato poi nel modulo di adesione nel contratto è l'invio dei campioni ma il per il resto è interamente tutto coperto questo significa che l'azienda non ha rischi non ci sono voli da perdere non ci sono giorni da stare via eccetera quindi l'azienda sa dall'inizio cosa costa e che impegno gli chiede ripeto ovviamente poi l'unica cosa da considerare extra sono le bottiglie quindi la campionatura da inviare per la fiera e la spedizione delle stesse per la spedizione l'anno scorso è stato fatto un groupage per cui le aziende aderenti alcune delle aziende aderenti hanno preferito inviare i vini mettersi diciamo d'accordo di inviare i vini tutti insieme quindi io con questo chiudo vi avevo detto che sarei stato velocissimo le informazioni ci conoscete quindi è possibile contattare gourmet international quindi ci diciamo il merano è possibile contattare tender vino chi lascia chi ci dà la sua mail può andare su tender vino punto it c'è una pagina dedicata a post dedicata proprio all'evento raggiungibile facilmente dalla home page o cliccando poi vi metto tra un attimo anche il link nella nella chat ma se mi permettete tornerei un attimo su questa su questa slide e direi che il mio intervento al momento si si ferma ma rimango su questa slide proprio per elmuth intanto ti chiedo appunto un commento un parere poi direi diamo spazio a domande e a interventi delle aziende beh grazie Alessandro penso che sei stato molto chiaro molto dettagliato io personalmente sono abbastanza convinto che questa collaborazione anche grazie appunto al tuo intervento come tende il vino sicuramente daremo una una bella risposta anche una bella presenza poi rifacendosi al come avevi giustamente messo in evidenza l'allestimento nello stile del merano wine festival quindi gli diamo anche quel quel touch quindi ci sarà anche da parte di Alessandro questo è un po' il compito di wine per ambassadors una promozione del merano wine festival quest'anno cioè tramite tutti i suoi canali quindi daremo un'informazione ancora molto prima di tendere vino di quello che succede a merano e quindi tutto sommato questo allestimento dei due o tre tavoli quelli che saranno alla fine sarà come un piccolo merano wine festival condivido anche il discorso chiaramente come dicevi Alessandro che non stiamo parlando di vini che devono necessariamente aver preso il wine hunter award perché chiaramente il mercato svedese magari chiede vini di un livello magari non troppo alto richiede magari un'altra un altro approccio però ovviamente un'azienda che è stata valutata che rientra nel nostro circolo chiaramente già li daremo chiaramente questa referenza del wine hunter award in ogni caso no e quindi questo è già una cosa che diciamo dove posso garantire che fungeremo da testimonial per le aziende stesse ecco questo è un po' l'insieme io auspico e spererei che ci sia un grande interessamento da parte vostra e anch'io sono a disposizione se ci sono domande che avete anche nei miei confronti per cui siamo qua tutti e due allora elmo tu guarda riprendo subito la parola perché vedo mi è arrivata in privato una domanda anzi chiedo magari di farla in pubblico perché cioè sulla chat pubblica solo perché altrimenti poi faccio confusione sono pur sempre un maschio e da quanto maschio fatico a fare due cose insieme però no questa l'ho letta e mi riguarda il parte del chi mi dicono è possibile la presenza del produttore e allora alla giornata del 27 direi di no nel senso che nel nostro il nostro spazio è gestito da personale tender vino ovvio che come dire non è che possa né che voglia impedirvi di prendere un aereo e venire a stoccolma ci mancherebbe però immaginate di avere cinque sei sette aziende con noi e ognuna magari un personale diventa estremamente caotico quindi la formula che abbiamo creato è proprio quella di una di una non di una collettiva perché non mi piace troppo usare questo termine ma proprio di rappresentare di fare il tavolo del merano wine festival a cui sono presenti le aziende ripeto che hanno ricevuto almeno un prodotto almeno un award da appunto da the wine hunter e collego anche a quello che dicevi elmuth ovvero che sì teoricamente un'azienda che ha ricevuto un premio può anche portare tre vini che non sono stati premiati forse almeno un vino premiato lo porterei però dato che eviterei di portare su dieci vini per ogni azienda questo farà parte del secondo step ovvero una volta definita l'adesione decidiamo insieme quali vini portare quali sono reputati più interessanti e più profitable per il mercato locale quindi mandiamo su quelli sottolineo ancora una cosa poi se ci sono domande magari chiedo appunto so silvia dimmelo che io non so se le vedo live in chat e rimango volutamente su questa slide appunto ma insomma fatemi sapere le domande mi sono fin sono perso scusate no allora ecco sì una domanda in chat se da giovanna grazie me la me la leggi o la vado a vedere allora buongiorno non avendo benchmark di edizioni precedenti ed essendo abituati a lavorare con kpi precisi avrei alcune domande quali aziende importatori saranno presenti quante aziende vinicole parteciperanno parteciperanno massimo numero abbiamo idee di forecast roy grazie allora quali importatori saranno presenti questo sarò in grado di dirlo correttamente esattamente alla fine dell'evento ovviamente però posso dire una cosa uno che io ho fatto lo stesso evento l'anno scorso e se non sbaglio abbiamo avuto i contatti da quasi 200 aziende presenti non tutte importatrici non tutte dirette importatori perché alcuni ristoranti magari non possono fare l'importazione diretta ma attenzione non è che sono meno meno interessanti è per noi perché comunque certo magari non potranno essere direttamente il nostro cliente però è un veicolo una parte importante del percorso di per arrivare al consumatore finale quindi ho la lista delle aziende che hanno partecipato l'anno scorso scusami degli importatori che hanno partecipato l'anno scorso per quest'anno noi ci siamo dati un obiettivo non vogliamo superare al nostro spazio ovviamente le otto massimo dieci aziende noi quest'anno abbiamo prenotato uno spazio doppio rispetto a quello dell'anno scorso proprio per essere più impattanti per avere più visibilità e per essere e per avere anche quindi un maggiore una maggiore offerta geografica e non solo ma insomma di vini da presentare per cui diciamo che al nostro tavolo non saranno più di dieci aziende noi di tender vino saremo il numero congruo rispetto al numero di aziende nel senso che due tre cioè non è questo un limite da parte nostra per quanto riguarda la Roy se non sbaglio chiedevi anche questo è un po' difficile da dire nel senso che il ci sono importatori e l'anno scorso mi hanno chiesto 30 bottiglie di un vino perché sono il piccolo importatore perché sono il piccolo ristoratore che magari importa direttamente e che poi magari hanno fatto un ordine il primo ordinino da 30 bottiglie ma ci sono tanti importatori che cercano volumi importanti un un importatore l'anno scorso mi ha chiesto un private label di Pinot Grigio da decine di migliaia di bottiglie proprio per andare a venderlo nei suoi ristoranti con il proprio marchio ovvio che nel momento in cui siamo di fronte al cliente il il matching tra il produttore e l'importatore giusto è una parte fondamentale del del nostro lavoro altra cosa che dico è che la camera di commercio che è l'organizzatore della giornata del 27 l'ente organizzatore della giornata del 27 è estremamente dinamica disponibile professionale a una rete enorme di contatti per cui ripeto non posso avere ad oggi la lista di chi sarà effettivamente presente a novembre 2023 però sono molto confident sono molto sicuro del fatto che sarà molto ben frequentata mettiamo così spero di aver risposto alla domanda forse era giovanna non lo so sì ero io e no grazie la ringrazio anche in chat e chiedevo se eventualmente vuoi condividere la presentazione con noi perché sono arrivata anche un po in ritardo e ho perso la prima parte di analisi di di mercato allora ovviamente a questo punto chiedo a te silvia dato che abbiamo preferito non fare una raccolta di mail cerco meglio questo webinar non era su iscrizione io vi chiederei anzi vi metto in chat silvia se ce lo hai a portata di mano gentilmente se mi mette in chat il link alla pagina dell'evento sul sito tender vino comunque sia se andate su tender vino punto it in alto a destra trovate direttamente il il pop up non è un pop up ma insomma il link per andare alla giornata del vino in cui trovate tutte le informazioni anche più dettagliate di queste c'è direttamente il modulo di adesione che potete scaricare ma c'è anche la possibilità di scrivervi di inserire la vostra mail così che noi lo vediamo e tanto condivideremo queste slide che avete appena visto anzi che state vedendo con tutti quelli che inseriscono la mail che dimostrano interesse inserire la mail non vuol dire se mi scriverò assolutamente non è un contratto è una diciamo dimostrazione di interesse sì poi la presentazione di oggi è stata registrata noi la caricheremo sul nostro canale ufficiale youtube merano in festival quindi metteremo sui nostri canali social tutti i link di riferimento per rivedere insomma la presentazione a chi non è non ha potuto partecipare o non è riuscito ad arrivare dall'inizio giusto ottimo dimenticavo questa parte importante grazie sì sì è il webinar registrato per cui è visibile poi lo condivideremo molto sia appunto sui canali social eccetera per cui se ci seguite così approfitta anche della marchetta se ci seguite su linkedin o su instagram su tendervino.it troverete troverete tutto l'e-mail la potete lasciare direttamente in chat io le raccolgo e mando poi la presentazione esatto silvia grazie o se preferite nella nel sito che via il cui link via condiviso silvia c'è il form per lasciare l'e-mail nome dell'azienda nome vostro e così creiamo una lista unica di aziende interessate e ripeto parliamo di un di una dimostrazione di interesse per poi inviarvi tutte le tutte le informazioni vedo e ringrazio intanto chi ci sta mandando le le e-mail in diretta in chat grazie mille altra cosa io ovviamente ho per ovvi motivi sintetizzato un po in questa presentazione ma poi molte cose possono essere dette a voce o le trovate o online o nel contratto poi di di adesione l'evento post evento anzi ecco post evento le aziende aderenti riceveranno un report dettagliato con chi è stato incontrato chi ha assaggiato cosa feedback gli è piaciuto il vino ha detto che il vino b è che ne so troppo caro sta pensando di fare un acquisto per gennaio sparo ovviamente delle cose a caso altra cosa che non abbiamo detto è che nel nostro network oltre agli importatori e la camera di commercio in vita alla giornata del 27 ci sono molti importatori ristoratori molti diciamo operatori in genera del mercato oreca svedese per cui noi inizieremo ben prima del 27 ad inviare una serie di mail di informazioni a tutti i nostri importatori svedesi facendogli presente che saremo la giornata del 27 facendogli presenti che saremo la giornata del 28 con l'azienda a l'azienda b con l'azienda c eccetera eccetera in modo da creare già da prima un hype ovvero questo perché lo dico perché non è solo un vado lì il 27 e guardo chi c'è ma chi fa export sa bene che una fiera si prepara da molto prima e si prepara prima anche andandoci a fare comunicazione da soli forse c'è qualcuno che ha il microfono aperto ecco quello che volevo dire magari elmott la comunicazione che può fare il merano wine festival magari te la te la lascio raccontare eccetera io mi occupo diciamo della comunicazione in svezia insomma a quelli che sono i potenziali acquirenti alessandro chiaro l'avevo già accennato prima e avendo il merano wine festival nella fase appunto dal 3 al 7 novembre diciamo daremo già ampia promozione comunicazione da una parte della fase iniziale poi ovviamente anche all'interno del merano wine festival daremo una comunicazione sia per quanto riguarda diciamo all'interno dell'evento ma anche per quanto riguarda tutti i giornalisti che saranno presenti ecco e poi eh quest'anno avremo eh per la prima volta allestiremo uno spazio e eh sarà un punto di riferimento dove creeremo il wine hunter buyers club perché abbiamo una collaborazione anche con lice e ci saranno diversi buyers che saranno presenti e all'interno di questo contesto faremo anche una presentazione poi per quanto riguarda questo evento della svezia quindi daremo una bella eh e ampia promozione per quello eh ovviamente anche tutte le aziende che parteciperanno godiranno di questa promozione che faremo perfetto 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 eh avevo promesso tre quarti d'ora circa siamo in perfetto orario ma se ci sono altre domande se avete altri dubbi eh su qualsiasi cosa ovviamente è il momento di farlo in chat o come eh qualcuno prima aprendo aprendo il microfono e facendo la domanda ovviamente tempo di editare il video insomma di sistemarlo di caricarlo su youtube e lo troverete questa registrazione su youtube sui social sul sito tendervino.it eccetera quindi qualsiasi informazione è direi facilmente reperibile vado qua su questa slide perché ci sono ancora i contatti credo che molti di voi già li abbiano ma per chi ancora magari non li ha o per chi preferisce insomma rissegnarseli di nuovo trovate qua e quello che vedete è né più né meno il mio cellulare quindi rispondo direttamente io ehm il sito ed il e la mail sono quelli del sono quelli appunto di tendervino sull'iscriviti qui in questo caso per voi eh c'è il link che prima ha condiviso eh Silvia se cliccate sul sullo schermo non vi non vi succede niente ma eh quando riceverete queste slide in pdf sarà cliccabile quindi eh vi potete tranquillamente eh iscrivere inviare la mail o come dicevo direttamente già scaricare il modulo di adesione e restituirlo eh compilato e ovviamente firmato. Helmut io non ho altre cose da dire eh ripeto mi piace cerco sempre di essere eh preciso e rispettare le tempistiche perché poi siamo a rientro dalle ferie eh siamo tutti ritornati ai ritmi eh incasinati si dice dalle mie parti insomma magari è poco elegante ma eh siamo tutti incasinati quindi vi vi ringrazio intanto eh per le domande chi ha lasciato la mail anche chi ha solo partecipato per magari avere informazioni e pensarci su pensateci non c'è frettissima ovviamente vi consiglio di non di non passare il quindici di settembre per ovvi motivi eh di di costo ma eh l'unica cosa chi prima arriva meglio alloggia nel senso che arrivato al numero massimo ovviamente chiudiamo le le adesioni ora non accadrà oggi ovviamente per cui diciamo che questa settimana ve la lascio per pensarci ma da lunedì vi aspetto per per le per le adesioni e per poi entrare in tutti i dettagli che ci possono essere e di cui potete aver bisogno. Helmut io ringrazio te eh felice onoratissimo di far parte di questa squadra di ambassador e di ovviamente di portare a in Svezia il marchio del Merano così come di portare a Merano i primi di novembre aziende non solo dal Canada e dalla Scandinavia per per fare un Merano sempre più international. Va bene grazie Alessandro ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguito e se non ci vediamo prima ci rivedremo tutti a Merano dal 3 al 7 novembre. Grazie a voi. Grazie a tutti ciao